Signore e signori, buonasera, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento settimanale. Questa sera vorrei parlarvi di una condizione patologica di cui si parla tanto, ma non è mai stata, a mio parere, fatta una puntualizzazione esatta. In particolare oggi che ci sono dei supporti terapeutici alla sindrome stessa. Sto parlando della cosiddetta sindrome post-covid. Allora, milioni di persone sono andate incontro al covid e continuano ad andare incontro al covid. Una certa percentuale di difficile valutazione, ma non statisticamente irrilevante, va incontro a postumi della malattia stessa. Post-covid, cioè sintomatologie che disturbano decisamente la qualità della vita, pur non dando delle complicanze importanti a livello d'organo. Allora, ho avuto il covid, due, tre settimane riprendo l'attività, riprendo le mie condizioni solite. In una certa percentuale non riprendo le mie condizioni solite. E quali sono i sintomi che più spesso ritroviamo in questi casi? Allora, innanzitutto l'astenia. Normalmente io vedo arrivare pazienti che ti dicono sono stanco, non mi tolgo questa stanchezza. Istintivamente, chissà perché, dicono è stato il vaccino. Da quando ho fatto il vaccino io non sto più bene, io sono stanco. Beh, noi non possiamo naturalmente definire esattamente quale può essere una sintomatologia post-vaccinica rispetto a post-malattia. Però è molto verosimile che si tratti di post-covid. Astenia vuole dire che sei stanco senza avere fatto nulla di importante. Attenti! L'astenia può essere dovuta a mille malattie. Difficile pensare a una malattia più o meno rilevante senza che ci sia la stanchezza. Senza che ci siano i doloretti muscolari, i doloretti ossei diffusi. Fra le varie cause c'è anche il post-covid. Si tratta, così ti riferiscono i pazienti, di un'astenia importante. Fin dalla mattina ci si alza stanchi e si fa proprio fatica a svolgere l'attività nella propria giornata. A volte questa astenia è accompagnata da dispnea. Dispnea vuol dire mancanza di fiato, mancanza di respiro. Ma qui è più comprensibile perché questi soggetti, non tutti, ma molti di questi soggetti hanno avuto la polmonite. Si tratta di polmoniti interstiziali, particolari tipi di polmonite che possono lasciare delle sequele. La dispnea, ovviamente, è una dispnea da sforzi minimi, assolutamente incompatibili con quello che è stato fino a prima di ammalarsi di covid. Poi ci sono i dolori muscolari, dicevamo. Dolori muscolari che non sono diversi da quelli che si hanno quando c'è la malattia in atto. E spesso astenia, quindi stanchezza, dispnea, mancanza di fiato e dolori osteomuscolari sono presenti insieme nel soggetto. Infine, e questi lo raccontano in molti, dice Ho come la nebbia al cervello, è come se non riuscissi a concentrarmi, è come se non fossi lucido. Qualche volta usano il termine ho perso la memoria, questo è meno verosimile. Però può capitare in questa fase transitoria. Non sappiamo se è un effetto diretto del virus o se è colpa delle citochine. Cosa sono? Citochine infiammatorie. Sono sostanze che noi produciamo tutte le volte che abbiamo bisogno di difenderci da una malattia, qualunque essa sia. Adesso parliamo di covid, se parlassimo di qualcos'altro. Sono sempre le citochine che ci difendono e ci consentono per lo più di guarire. Altri sintomi, la tosse secca, che dura magari mesi. Attenti, anche il reflusso gastroesofageo dalla tosse. Quindi non dobbiamo pensare, se è solo tosse, di avere una sindrome post-covid, pur essendo stati malati. Come la perdita del gusto e dell'olfatto, che abitualmente sono reversibili. A questo punto abbiamo fatto la diagnosi, ci siamo rivolti ad ambulatori dedicati. Opportunamente sono stati istituiti ambulatori, anche a Sondalo noi abbiamo un ambulatorio dedicato a questo tipo di paciente. Si può fare qualcosa? Beh, ci sono farmaci sperimentati e che sembrano dare dei risultati. Quelli più vecchi, l'attoferrina, era finita nelle farmacie, probabilmente si tratta di un effetto placebo. Ma anche la L-arginina, è un aminoacido, probabilmente dà una mano a questo tipo di paziente. Sto parlando di questo tipo di paziente, non in generale. Ultimamente l'Università di Pavia ha proposto una ricerca, non su grandi numeri, ma a mio parere piuttosto interessante. L'associazione di un antistaminico, antistaminico vuol dire quello che prendiamo per le allergie, per il raffreddore da fieno, per la rivite allergica e per la congiuntivite allergica. Un antialergico associato a una sostanza che si chiama famotidina, che prima che arrivassero i vari PPI, quelli che finiscono per prazolo, ome prazolo, pantoprazolo, c'erano questi inibitori dei recettori staminici, fra cui la famotidina, praticamente abbandonata, ovviamente i PPI, i vari prazoli hanno superato ampiamente l'efficacia di questi. Una di queste, ripeto ancora, la famotidina, associata a questo antistaminico, pare abbia dato dei risultati importanti nel perlomeno ridurre l'entità del danno, ma soprattutto la durata del danno post-Covid. Grazie, buonasera. Grazie a tutti.